La felicità è un diritto fondamentale. Guarda, a me sapere che tu sei infelice mi rende parecchio, ma parecchio felice. Tu sei uno stronzo e tu mi devi ridare i soldi, dai. Si apre un'agenzia che vende felicità. Sì, però a me non mi capa prendere per il culo la gente. Al nostro futuro. Io te l'ho mai detto e conosco bene Dino Zoffer. E chi è? È il nuovissimo cellulare Glass One. In tutto questo noi come possiamo esserle d'aiuto? Non mi telefona nessuno. Secondo voi sono grassa? L'importante è piacere a se stessi. Io preferirei piacere agli altri. Di piacere a me stessa mi sarei anche un po' scocciata, o no? Ora io voglio essere felice come lui. Sono gay. Questo campa cent'anni, eh? Io ve lo dico. Quanto campi? È nata la prima agenzia italiana che la felicità la vende. 10 telefonate al giorno potrebbero bastare. Permette? Slacchete. Allora? Speciali. Bella famiglia. Basta dare alla gente quello che la gente vuole. Basta poco. Sono disoccupato da tre mesi. E come si fa?